Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, sono Bones Channel e oggi ragazzi siamo qui su Bombich Mamma mia ragazzi, da quanto tempo che non porto Bombich ragazzi Vabbè comunque, allora andiamo subito a prendere le risorse, poi ragazzi andiamo a farci le truppe Direi di farci sempre le nostre carissime, oh quartier generale livello 4 ragazzi Guardi al generale livello 4, oh vabbè basta, allora ci possiamo prendere questa bella cosuccia Allora ragazzi intanto qua noi stiamo spaccando, cioè veramente il nostro villaggio è troppo forte Non possiamo mettere delle mine, delle piccole mine, sì che le possiamo mettere ragazzi Le mine, allora mettiamone una ben piazzata qua, mettiamo una qua, mettiamo una qua, ok Ok, ok, vi 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 ragazzi Andiamo Mi piace Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace questo ragazzi Mi piace, poi l'arsenale, potenza e l'esercito, quindi anche quello ci servirà Ma intanto ragazzi, noi ci andiamo a gemmoare le nostre carissime truppe E andiamo Suona il ten, Ammerman Ammerman Come cavolo si vorrebbe chiamare ragazzi E occuperò questo villaggio Bravo Ben presto ridurrò anche te in schiavitù Convinto proprio, eh Convinto, guarda poco convinto Guarda, attaccami un po' di nuovo Vabbè, comunque, vediamo Questo bel vi Di corsa Lo attacchiamo di corsa ragazzi Allora Uh, abbiamo il kit Abbiamo sbloccato il kit E quindi questa cosa è molto, ma molto bella Allora, qua andiamo No, le mine No, le mine No Vabbè, a parte gli scherzi ragazzi Allora Direi abbiamo vinto questa partita Quindi ragazzi Tantissime Vabbè Vabbè, comunque Andiamo qui Guardate ragazzi Guardate 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 Ragazzi Come sto Spaccando qua Allora Qua stiamo per vincere Dai Buttate quel quartier generale Ragazzi Sto villaggio ho fatto proprio schifo Qua si chiama Steso Ragazzi Ed è livello 3 Noi siamo livello 4 Cioè Ragazzi Scrivetemi sotto i commenti Sì, sì Vedi dal quartier generale Di livello 6 Ma penso dal quartier generale Ragazzi Oppure da qualcos'altro Non lo so Scrivetemi sotto i commenti Vabbè Comunque Qua abbiamo vinto E guardate Quanta legna Ragazzi A me interessa La legna Perché non lo sa Ragazzi Vabbè Comunque Nessuna perdita Evviva 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 Vabbè Comunque Villaggio No Che è successo Richiede il radar Vabbè Allora Andiamo a fare Un altro attacchicino Ah no Dobbiamo Ah no Ragazzi Ma l'abbiamo Dove questa roba No 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 E adesso No No Ragazzi No Ragazzi Sto video Dura poco Cioè Sto video Dura davvero poco Ma noi Che facciamo Ragazzi No Che facciamo Non possiamo Potenziare Quello E adesso Mannaggia La misera Ragazzi Mannaggia Ho fatto un grave errore Ragazzi Ho fatto un grave errore Allora Vabbè Ragazzi Allora In questo caso Andiamo su Che cosa Che cosa Ora vedo un po' Ragazzi Ragazzi Andiamo sui quiz Ragazzi Andiamo sui quiz Troviamo gli abitanti del regno Allora Ora Momo lo sto facendo con voi All'inizio del gioco Lo devi rapinare Ragazzi Io Ovviamente Ho fatto Una banca E infatti Divertente Dai Qual è il nome Della figlia Di Michael Samantha Giulia Tresi Tresi Niente 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 Della velocitazione Con pagliacci Pagliacci Ahia No Continuare Continuare Allora Allora Andiamo sui video Qui Oddio I borbottio I borbottoni Rispondi correttamente A due domande Su tre Continuare A cercare Vabbè Qual è la protagonista Che possiede un telefono Al quale Non si può cambiare Lo sfondo Nessuno Cos'è È vero È vero Qual è il vero cognome Di Michael Phillips Di Santa No Vabbè No Ragazzi Però No Ti ho messo Ti ho messo Vabbè Ma avevo sbagliato Vabbè Mettiamo una cosa a caso Ecco qui Meglio Sa Molto Dove è nato Il calciatore Carlos Devez L'argentina Vabbè Franco Battini Eh Vabbè Ragazzi Vabbè Che vogliono Che vogliono Allora Voglio fare Le linee di Rio Che nello scorso episodio Non l'ho fatta Allora Eh Chi conosce Asigno Ah Asigno Erna Infatti Non l'avevo capito Vabbè Andiamo qui Abitanti Sendo abitanti Alcune challenge Sono sponsorizzate Da Paco La Fanta Fanta Ragazzi Però Le stanno Terminando tutte Chi di questi Membri Ha portato Vari pacco Con le sue Figlie Brezzo Crio Ragazzi Quindi Andiamo subito Qui Oh Re Attenzione Ragazzi Nella crew C'è un ragazzo Chiamato PewDiePie Italiano Chi è? Il vostro Quale Dexter Mamma mia Ragazzi Le sono tutte Non ne ho sbagliate Una Vabbè Comunque Nelle altre Poi faccio schifo Non lo so perché Però va bene Allora In che giorno Giambiteca Ha ottenuto Il partner Su Youtube Oh No Volevo mettere Quello Ragazzi Volevo mettere Quello No No Missy Mates Sbaglio Ui Marco Il Marco A che puntata Su Jalpower Cambiamondo Nella stazione 2 Di Minecraft E Eh Vabbè Ragazzi Io non mi vedo Sul Cioè Quindi Ragazzi Mi raccomando Spolliciate Per un prossimo Bisoglio Quindi Andiamo Su Ragazzi Voglio vedere Gomorra Gomorra Ecco Gomorra La serie Giocare Comunque Oddio Ma ragazzi Ci sono Cadute Popo Le cuffie Vabbè Comunque Maledite Qual è il vero nome Di Gennaro Salastano Simone Esposito Salvatore Esposito Infatti Ragazzi Lo sapevo Allora Il ninja Samurai Perché Jenny Picchia Il O Track Casomai Gioco Aveva risposto Male Aveva rubato Un orologio Aveva risposto Va bene Vabbè Sì Hai ragione No Ma però Vabbè Ragazzi Il video Può finire qui Lasciate like Scrivetevi sotto i commenti Ho capito che devo cliccare lì Però non hanno i cuori Capisci Capisci che non hanno i cuori Maledetto Vedi Ragazzi Il video Può finire qui Scrivetevi sotto i commenti Se volete vedere qualcos'altro Lasciate like E noi ci rivediamo A un prossimo video Ciao ragazzi